ciao ragazzi buongiorno ragazzi oggi è una bella giornata però se io mi tolgo la vestaglia poi prendo angolo prendo le botte di freddo una volta ci si diceva le botte di mare e poi sento freddo e mi prendono vabbè non è che stiamo a fare tutti i dolori che ho però io un po' somatizzo tipo stamattina sono andata al bar e mi ha detto questo è di Milano mi stava dalla mano e ho detto oddio fermati no e somatizzo molto quindi oltretutto c'ho anche quest'altra cosa e niente oggi vi volevo ancora non parto perché stamattina ho avuto oddio ho ricevuto una notizia che non avrei voluto cioè che mi ha aia porco dio la madonna che in effetti mi ha fatto molto male mi ha fatto molto male quindi vedete ragazzi questo questo sito mediatico a volte è utile a volte no non si sa perché comunque a volte può servire a volte magari distrugge delle cose belle che tu fai perché ci sono molte persone che non capiscono però se vuoi dare al limite a oltranza proprio perché non riesci in altro modo a comunicare io volevo dirti che qualsiasi cosa hai bisogno so che non sono non non merito questo posto vicino a te però per qualsiasi cosa hai bisogno e tu sai che sto parlando per te io ci sono ci sarò sempre ma non ci sarò sempre come si scrivono i link di facebook ci sono e diciamo che ti giunga il mio abbraccio più più sincero ecco questo è quanto scusatemi ok ripartiamo allora praticamente io ho fatto questa canzone che è stata molto contestata cioè un po difficile ripartire ehm adesso però io non non so nemmeno cioè non so nemmeno cosa dire in più e forse un decoroso silenzio ehm è la cosa migliore allora ok allora io ho fatto la canzone a Bocodaus ho fatto la canzone a Bocodaus e non è stata tanto cioè è stata apprezzata mia nipote mi ha detto che sull'autobus a Pescara tutti cantano la canzone lei vorrebbe dire da un lato oddio ma quella è mia zia tutto quanto però essendo una persona molto discreta cioè poi si sentirebbe tutto l'assalto delle persone che magari le vanno a disturbare allora la canzone angolo scusate vabbè non pulisco quel che è uguale tanto è mio ecco qua la canzone dicevo mi è stata data la possibilità oggi tipo mi sfiate di presentarla a radio pvm se non sbaglio se non sbaglio male se non sbaglio male oddio oggi pensavo pure che era sabato no che era venerdì e sono andata al bar ho detto ma è venerdì le poste arriva ma è sempre guardi che oggi è sabato di se trovo se ieri era giovedì non può essere che oggi è sabato proprio sono arrivata sono arrivata non so dove comunque vabbè andiamo avanti praticamente mi è stata data la possibilità di presentare la canzone a questa radio e di spiegare il significato di questa canzone perché allora molti l'hanno proprio declassata dicendo che è una canzone trash una canzone da baraccone che che una canzone farlocca quindi a porco di capelli da occhi più ne ha più ne metta ma io ho sempre pensato che portare in modo un po' scanzonato ma canzone scanzonato ripeto questa frase scanzonato scusate guardate che unghio che c'ho mi sono bagnato pure lo smalte praticamente portare in modo scanzonato ecco perché anche andare dai bambini perché i bambini sono curiosi ti chiedono tutto quanto e quindi scanzonato queste questa patologia sarebbe stato è bello no cioè perché se no uno capito smette a piangere mettersi a piangere su ciò che si ha non certo ci aiuta a porco di capelli down a risolvere il nostro problema quindi detto questo io vi volevo vi volevo dire che alle tre e c'è alle tre scusatemi ma c'è mattia sto un po sto un po' occhiali verdi ok il 3 marzo dovrei andare in onda no dovrei vado in onda poi vi faccio sapere bene con una diretta che ora per fanno andare in onda la canzone e io la spiego cioè la spiego la illustro e spiega a parte che a me mi ci vende a ride perché io questa canzone cioè mi ci vende a ride tra parentesi perché a porco di capelli down la canzone io l'ho incisa a colonio cioè il video non l'ho inciso il video l'ho fatto a bergamo però c'è l'ho incisa a bergamo però il video l'ho fatto a codogno quindi quando su facebook dicono ma che cavolo stiamo a fare a codogno io scrivo la canzone a bocadaus e quindi niente che vi stavo a dire quindi spiegherò questa canzone spiegherò il perché ho fatto questa canzone non facendone un testo proprio abbastanza serio e serioso diciamo non serio perché comunque doveva essere un tormentone una una cosa un po leggera è così che poi vabbè chi ci sta chi giudica che che ne va bene niente capito ci nel mondo c'è di tutto diceva non l'allicicchigni trovo ogni ogni motivo per litigare quindi l'allicicchigni sarebbe l'allicicchigni sarebbe quella persona che trova ogni pretesto per litigare vabbè io ho detto questo vi voglio salutare perché sta oggi è sabato mi sto a riposo da che non sono sto facendo parecchie cose anche con l'associazione gioia di cui faccio parte adesso dovremmo vendere questi biglietti e in giro per l'abruzzo stiamo cercando angolo anche degli sport che ci danno già ne abbiamo trovati parecchi chi ci ha dato una piega gratis chi ci ha dato una borsa chi ci ha dato insomma tante persone che si sono poi faremo primo secondo terzo premio e premi di consolation e io chiaramente mette mamma mia chiaramente metterò anche in palio i miei libri per chi avrà il piacere di leggerlo leggerli e altro niente non vi devo dire l'unica l'unica cosa che vabbè non lo dico perché sennò sono ripetitiva e poi posso urtare la sensibilità di di questa persona che forse molto probabilmente sicuramente vuole essere lasciata in pace e quindi rispettiamo il silenzio di tutti mettiamoci nell'ordine delle idee e che io a volte sono molto irruenta no cioè vedo una cosa boom boom e invece devo imparare a a rispettare il silenzio degli altri a non invadere perché comunque potrebbe essere anche un segno di violenza questo anche se io non lo faccio apposta perché magari vorrei capito andare fare ti voglio aiutare dove sta vicino no però se la persona non chiede vuol dire che non vuole vabbè ci sanno cose che si capiscono nel tempo e ci si entra nell'ordine delle idee anche un po tardi meglio tardi che mai io vi lascio un bacione un buon sabato e un bacio particolare alla persona con cui ho un abbraccio particolare alla persona che di cui ho parlato prima ciao a tutti basta ciao a tutti